SIGLA Qui in Iraq è molto più dura di quanto mi aspettassi. Un mio amico mi ha raccontato di un posto fantastico dove fare biking in Europa. Non vedo l'ora di lasciare questo schifo per poterci andare. Ma presto, figlia di puttana. Tutti quelli che si sono spenti in quella zona non sono più tornati. Hai idea di dove siamo? Sta arrivando qualcuno. Nervi! 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 Nervi!